A Cagliari si gioca il secondo minuto della ripresa, invariato risultato rispetto ai primi 45 minuti. Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 39esimo del primo tempo dal solito Gigi Riva. La voglia di sognare quando Gigi Riva tornerà, quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in serie A. E' il migliore giocatore del mondo, meglio di Pelè, meglio di Pelè, è il più forte! Sperremo insieme l'umiltà, per ricominciare con più cuore, quando Gigi Riva tornerà. Crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità, e sapremo piangere davvero, quando il sogno ci confermerà, che non passerà più lo straniero, quando Gigi Riva tornerà. Su, 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 come gli alpini, niente più paura ormai ci fa. Su, 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 che siamo i primi, tutti insieme verso il sole, tutti insieme verso il sole. E' quando Gigi Riva tornerà, la partita ricomincerà, grideremo insieme Italia, Italia! Riva, 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 tiro, è il gol! Riva, Riva ha segnato, 3 a 2 per l'Italia! Questa regione mi abbia veramente adottato, mi ha preso, mi ha dato una casa, mi ha dato una famiglia, mi ha dato simpatia, mi ha dato affetto, come fai poi a lasciare tutto e dire, vabbè, grazie, arrivederci, ma adesso vado a, non mi sembrava giusto. Zumba, 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 zumba